No 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 mi fa la fars土 Prima e primo e prima pubblichi un video oio 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 In cui scrivi nel titolo FAL 400 mi fa schifo Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui vi devo confessare una cosa Sono retardato Ce-ho ripensato Il caso mi piace è anche parecchio Molto più facile farcelo stare qui dentro Il caso Molti pensano Ma cavolo 500 euro per un cazzo Sono davvero tanti ma Io sto a ripetere sempre Ma cavolo è un cazzo Comunque ti fa girare il cazzo Quindi capisci che non può Costare due spicci Per quanto mi riguarda Un grosso cazzo Non sto dicendo che il cazzo sia Mastodontico Vi ringrazio per avermi seguito finora E noi ci rivediamo alla prossima E noi ci rivediamo alla prossima E noi ci rivediamo alla prossima E noi ci rivediamo alla prossima